Ciao a tutti e benvenuti. È giovedì e sabato sera c'è la partita. Lo dico nel traffico, so che nel traffico c'è, quando sei in coda, c'è grande frastuono, grande confusione, c'è un sacco di energia e si fa un po' fatica a concentrarsi mentre sei in coda sulla strada di casa. E invece dobbiamo arrivare a casa, cioè questa è una delle classiche settimane in cui in casa Milan si parla di tutto tranne che della partita. E invece c'è la partita. C'è la partita perché poi è quella che determina, è quella che indirizza, è quella che orienta umori, atmosfere, situazioni. C'è la partita. E nemmeno semplice perché, guardate, il Verona, tutti i punti che ha fatto fino a questo momento in campionato li ha fatti con Tudor, 8. Addirittura Tudor nelle prime, leggevo sui siti specializzati dell'Ellas, che Tudor nelle sue prime quattro partite ha fatto 8 punti. L'anno scorso nelle sue prime quattro partite Iuri ce ne aveva fatti 7. Quindi questo è il tipo di Verona che ci aspetta. Varrebbe la pena iniziare a concentrarsi sulla partita. Lo dico naturalmente avendola molto a cuore la partita. Poi vi aggiungo, ma questo fa più parte del lavoro, che gli highlights di Milan-Verona faranno parte della piattaforma di OneFootball nelle ore e nei giorni a seguire rispetto a Milan-Verona. OneFootball ha una app molto ricca, che potete scaricare con il link che trovate nella descrizione di questo video. L'app di OneFootball è gratuita e l'app di OneFootball vi propone ogni tipo di contenuto in forma assolutamente gratuita. Quindi vi aspetta ed è pronta per essere scaricata. Milan-Verona, noi abbiamo perso un po' di giocatori questa settimana, solo la seconda. La prima no, sembrava che andasse tutto bene. Sa anche essere biffida, sa anche essere subito dalla sosta. Mentre il Verona ha appena recuperato Ilice e Faraoni. Faraoni è un ottimo giocatore. È il giocatore che ha deciso, ad esempio, che quest'anno in Champions League ci sia la Juventus e non il Napoli, con il suo gol del pareggio al San Paolo. E Ilice è un ottimo giocatore. Ilice è un ragazzo in grande crescita che va seguito con attenzione. Mentre evidentemente noi, la settimana che abbiamo vissuto, non sto neanche a riepilogarla perché l'ho sofferta, subita e accusata molto. Lo sapete, insomma, quello che è successo nel corso della nostra settimana. Però a un certo punto bisogna sintetizzare, bisogna quagliare, bisogna radunare le forze, compattarle, unirle a testugine e andare in campo. L'anno scorso abbiamo pareggiato col Verona. L'anno scorso eravamo in un ottimo momento. Avevamo appena battuto Inter e Udinese e col Verona in casa pareggiammo. 2-2 la famosa partita del rigore calciato alto da Ibra con Silvestri che lo provocava. Ricorderete il pareggio di Ibra di testa nel finale. Ricorderete, insomma, una partita che si è giocata a porte chiuse ma che ha acceso parecchi entusiasmi. Milan-Verona, peraltro, è anche la partita dell'esordio in maglia rossonera di Salemakers che nel febbraio del 2020 ha esordito in una delle ultime partite sold out prima del lockdown proprio in un Milan-Verona. Anche lì terminato in parità. Non sono tantissime le partite che abbiamo vinto negli ultimi 20-25 anni in casa col Verona. Quindi questa è anche un po' la tradizione della partita. Mi permetto di richiamarvi su questo. Io non sono un polsologo. Ho visto tanti polsologi in giro. Ho visto tanti virologi in giro nelle ultime ore. Io non lo sono. Quindi io non so quale sia lo sviluppo di un'infortunia allo scafoide. So per certo che i medici del Milan hanno molto a cuore queste cose. Sono attenti in maniera intensa e appassionata a queste cose. Questo lo so. E so che purtroppo ci è andata male nello sviluppo di un infortunio che probabilmente ha avuto varie tappe ma è semplicemente una mia idea personale, senza essere medico e senza essere polsologo. Quindi scusate se non essendo polsologo e non essendo virologo mi occupo della partita. Perché noi in Verona, ripeto, in ultimi 20-25 anni abbiamo vinto quella volta con Cesarone. Nella primavera del 2001 1-0 con il rigore di Sheva. Quella volta con Zedorf 1-0. Gennaio 2014 rigore di Balotelli. Abbiamo vinto con Contra. Vittoria che nel cuore ancora mi sta. L'ultima partita prima di Natale, all'inizio proprio dell'avventura di Carlo Ancelotti sulla nostra panchina. Abbiamo vinto quella partita, vi ricorderete, qualcuno mi prende in giro per tantissimi motivi ma anche per come me l'ha presi con Fares che faceva i falli su Suso 3-4 giorni prima della finale di Coppa Italia ma quella partita la vincemmo 4-1. Ecco, basta. Siamo lì. Adesso non so se sto dimenticando qualcosa. Sì, insomma, per andare alla cavalcata di UEA dobbiamo tornare al 1996, proprio a 25 anni fa. Ecco, 5-6 vittorie in 25 anni. È vero che qualche anno il Verona è stato in B, ma tanti pareggi. Quando ci venne espulso De Jong, quando ci raggiunsero nel 2000 e vinciamo 2-0, finì 3-3. Quando ci raggiunsero con Inzaghi in panchina al 93esimo, 2-2. Ecco, quindi calma. Calma perché la partita poi è importante, perché a noi servono punti per non smarrirci, per non finire coinvolti nel caos della settimana. Perché è stata una settimana caotica. Ecco, qui bisogna dar prova di avere lo zoccolo duro che abbiamo. Noi siamo temprati a tutto, da quando c'è Stefano Pioli, nostro allenatore. Siamo pronti ad affrontare tutto e questa è una di quelle settimane in coda alla quale bisogna dare certe risposte. Sarà importante avere i nostri tifosi a San Siro. Non sono né polsologo, né virologo, né finto prete, per cui sento in giro tanti commenti. Eh, ma, megnone, ma... Non c'è stato nessun funerale questa settimana. C'è stato un infortunio che ci ha traumatizzati non poco. Questo certamente non lo nascondo e non lo nego. Ma sono dieci settimane. Non è un legamento crociato del ginocchio di sei mesi, otto mesi. I dieci settimane, ripeto, scadono il 22 dicembre. Il comunicato è molto preciso. Ritorno in campo. Quindi, dieci settimane sono dieci settimane. Tante, ma non sono... Perché poi per fare impressione sul lettore, per infierire, torna nel 2022. Come se davvero hanno una voglia di titolare carriera finita che è pazzesca. O stagione finita che è pazzesca. Vediamo. Dieci settimane scadono il 22 dicembre del 2021. E vedremo, vedremo che cosa succederà. Seguiremo giorno per giorno. Due le ipotesi per... Ripeto, il Verona ha recuperato veloce da tempo. Sta recuperando Ilice e Faraoni. Per cui Tudor metterà in campo la miglior formazione. Un Verona che con lui... Che veniva dato per allenatore difensivo. Poi lui è stato nello staff di Pirro la Juventus. Ha delle rivincite da prendersi. Quindi attenzione alla parità di sabato sera. Una partita vera. Partita importante. Partita dura. Partita seria. Loro schiereranno la loro miglior formazione. Noi abbiamo ancora da fare. Evidentemente. Io sto parlando mentre si sta svolgendo. Sto chiacchierando con voi mentre si sta svolgendo l'allenamento pomeridiano. Abbiamo l'opportunità. Abbiamo diverse chance per le due fasce difensive. O Calabria a destra e Ballottuori a sinistra. O Calulu a destra e Ballottuori a sinistra. Oppure Calulu a destra e Calabria a sinistra. Insomma, di lì credo che non si scappi. Sperando, evidentemente, di recuperare qualche altro giocatore oltre a Giru subito. E sperando di recuperare qualche altro giocatore durante le partite di questa tranche che ci porterà poi alla sosta di novembre. Siamo abituati a fare i conti con tutto questo. Mi sembra che quest'anno abbiamo una rosa più profonda per reggere l'urto. Possiamo scavare ancora un po' di più rispetto alla scorsa stagione dentro la nostra rosa. E mi sembra anche che sia positivo. Io non so se arriverà a Lucca o meno. Non conosco lo stato dell'arte. Non so se ci sia una trattativa o meno. Però il fatto che si continuino ad abbinare i giovani di primo pelo di mercato. I giovani su cui si concentrano le attenzioni all'inizio della loro traiettoria. Che venga abbinato il nome del Mina. Mi fa capire che siamo sui punti dove dobbiamo essere. Poi le cose succedono o non succedono. Non lo so. Lo vedremo. Lo seguiremo insieme. Però intanto veniamo segnalati. E questo la dice lunga sulla voglia di crescere e sulla prospettiva di questo club. Ciao a tutti. Ci vediamo domani mattina per la segna stampa.